Cosa è cambiato in pochi mesi all'interno della Trottabus, l'azienda che a Benevento effetto è il trasporto pubblico locale, la gestione delle strisce blu. E' questa la domanda che arriva da sindacati e politica a Benevento dopo i continui ritardi registrati per il pagamento degli stipendi. Nella giornata di ieri, dopo alcuni giorni di attesa, finalmente l'azienda incaricata dal comune per i bus cittadini ha pagato gli stipendi, ma gli interrogativi e le incognite restano. Abbiamo richiesto più volte degli incontri alla comune di Benevento, abbiamo chiamato in causa anche il prefetto, quindi vogliamo capire che cosa stia succedendo, ma soprattutto cosa è cambiato da ottobre ad oggi, perché ad ottobre anche la società ha fatto delle emissioni di nuovi lavoratori. Noi come parti sociali siamo contenti di questo, perché quando si mette, si dà lavoro e si preoccupazione sul territorio, a noi fa sempre piacere, anche se avremmo voluto essere informati di tale cosa. Nelle ultime ore anche alcuni consiglieri comunali di Benevento hanno chiesto alla Commissione Trasporti di convocare i vertici dell'azienda per avere risposte. Attenzione rivolta anche alla sicurezza a bordo per quanto riguarda i controlli dei passeggeri nell'ambito della prevenzione Covid. Bisogna organizzarsi al meglio, visto le nuove procedure in ambito di controllo Green Pass, mascherina FFP2.